Adesso ancora un brano, un brano che parla di tante cose, una rivoluzione, quando è stato presentato questo cantante che so un po' ambidioso poi capirete perché, come dire, è andato fuori dal contesto, fuori da tutto, soprattutto dal tunnel. Infatti parliamo di Caparezza fuori dal tunnel e stiamo per ascoltare Shannon Raiola. O Raiola, Raiola credo. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Di te che spendi, sti peti, sti pati, posti, stupendi. Su cubi, su cubi di bittorrandi, su che brandi e ti stendendi, non mi comprendi. Senti tu, non ti offendi se ti dico che se trendi prendi me. Per esempio, non mi steppio per tempo e del divertimento. Essendo amico di mandamembo, sono un silenzio che può diventare musica se rimosghimo su qualsiasi tempo che sfrecanzo. Collado l'autoradio, nell'autocatto resto, faccia a faccia, con una focaccia, alto calato pasto. Com'è che si finisce a parlare, dice che robò delle strade di San Francisco. Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio. Da giovani, spumarsela, accarsi davanti allo specchio. Sono vecchio, punto, prendo spunto, dato un dociuffo. Mi sento stretto, come quando chiappetto puffo. Ah, io odio caparezza. Spuffo, pensando la serata di tipo, del tipo, che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, che mi fa? Da pub, da disco e da divano, sono qua. Com'è un download, là questo è il mio ramo. Io, in mula patume, teradue di costume, in volo senza piume, in un volo di fumetti. Sotto il lume non c'è paragone, basta una birra fermentazione, arrivo a brillazione. Per una nuova posizione, matizia tizia piena, mi delizia tizia scena. Ho fame, non problema, se i miei sfizi servizio a cena. Sera da te, ma bene, c'è stessa l'amba, smette speste. VHSS, non bastate giù le casse! Sono fuori dal tunnel, la, 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 del divertimento. Sono fuori dal tunnel, la, 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 del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Gli conti, gli scontri, lo scambio d'opinioni, persone che sono fatte, rinomi e cognomi. Vengono signori, che qui c'è il vino buono, le pagine del libro e le minuti del suono. Vivi dei ricordi, signori, e dei giochi, di abbracci sinceri, di pace e di fuochi. Di tutti i momenti, triste e divertenti. E non di momenti, triste e divertenti. Ma se sono alzati, non vi siete alzati? In piedi va, il ritornello lo sai, no? In piedi e qui bisogna ballare. Forza, tutti, tutti, tutti. Che sta da digerire? Alzatevi, forza. Sei pronta? E' certo, a cappella. Tre, quattro, e... Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Oh, così. Abbiamo, come dire, un po' svegliato questa bellissima serata. Grazie, Shannon. Lei non solo canta, canta e recita, anche perché tra l'altro a Lab abbiamo fatto una cosa bellissima con Chiara. Chiara, dove sei? Fatti vedere. Eccola qui. Eccola lì. Eccola qui. Hanno fatto un bellissimo pezzo. Donna uguale a Danno. Bravissime. Grazie, Shannon. Allora, come vedete, i ragazzi si alternano, si recita, si canta. Tra l'altro, voglio dire che ogni anno per me è una fitta al cuore, come per Alessandro, come per Daniele, perché questa sera sono i primi due ragazzi che si vengono ad esibire che sono del quinto. E quindi... E quindi è un anno particolare, il quinto. E hanno l'esame, ma soprattutto... Hanno l'esame, ma volano via appunto dal liceo linguistico. E quindi questo ci dispiace moltissimo. Grazie. Grazie. Grazie.